Questo è l'inizio dello sterrato che porta a Punta Calamita, dove si trova la miniera. Seguiamolo e vediamo com'è questa miniera. Ecco il percorso e quello è Punta Calamita. Punta Calamita, dove si trova la miniera. Punta Calamita, dove si trova la miniera. Punta Calamita, dove si trova la miniera. Abbiamo dovuto lasciare la moto perché una sbarra ostacolava il passaggio. Adesso ci siamo addentrati in questo sterrato. E niente, lo dobbiamo seguire per arrivare all'imbocco della miniera. Ecco lì c'è il mare per cui dovremmo essere quasi arrivati. Ecco, lì si vedono le strade che utilizzavano per andare a Punta Calamita. a portare il ferro giù al porto, al mare. Ma qui sembra che se arrivi quasi a una zona abbastanza vibra, vediamo cosa c'è. Allora, siamo quasi arrivati. Eccola in fondo si vede il mare. E qua sotto dovrebbe esserci la zona, eccola lì, dove portavano il carbone che veniva poi caricato sulle navi. E ci rimane adesso di raggiungerla. Lo seguiamo in questa direzione, dovrebbe essere quello. Ecco, siamo arrivati all'ingresso. Questa era la strada che portava giù, dove passavano i camion con il materiale. Beh, tutto recintato con filo spinato. Però, a quanto pare, qui c'è la possibilità di entrare. Il filo spinato è stato diverto. Beh, entriamo e vediamo di cosa si tratta. Grazie.